A inaugurare la seconda giornata di conferenze stampa di presentazione in casa Vellino direttamente dal ritiro a Sturno, dopo le prime parole da calciatori dei Biancoverdi di Francesco Forte e Gabriele Rocchi, è stato il difensore classe 1991 Mirko Miceli. Braia è pronto ad affidargli le chiavi del pacchetto arretrato. Sono arrivato in un momento dove le responsabilità sono d'obbligo, perché sono alla soglia dei 30 anni e quindi credo che assumersi le proprie responsabilità oppure caricarsi il peso del leader è un compito che mi piace e che mi stimola perché bisogna stare sempre sul pezzo e bisogna sempre dare il massimo e dimostrare giorno per giorno e essere esempio per i più giovani. Parola poi al centrocampista Michele Bruzzo, un under su cui il club irpino ripone particolare fiducia. La trattativa è stata veloce, avevo voglia di andarmi a misurare con una piazza di livello e quando è uscito a Vellino non ci ho pensato due volte, diciamo la scelta è stata scontata. Lo spazio che mi ritaglierò dipenderà da me, da come farò dovrò lottare per conquistarmi il posto, la rosa sarà competitiva e quindi nessuno avrà lo spazio regalato, tutti ci dovremmo conquistare la nostra fetta di minuti, diciamo. Intanto continuano le trattative per Castaldo di Paola Antonio. Per il primo è questione di tempo, per il secondo lasciato libero di svincolarsi. C'è ora da battere una guerrita concorrenza. Occhio anche a un altro ex, Arini, resta un obiettivo sensibile.